buongiorno ogni volta che devo fare un viaggio per lavoro ovviamente verso l'italia fischia mi prende la febbre o l'influenza vabbè ma supereremo anche questo video rapido per dire una cosa visto che avevo fatto ho fatto live poco tempo fa ed è stato bellissimo parlare con voi a non potete capire che quindi in automatico grazie grazie per le emozioni che mi date proprio per questo voglio dirvi una cosa io non ho fatto questo canale la mia nuova vita in albania perché stavo ricercando fama o successo e penso che questo voi lo abbiate capito perché la maggior parte delle persone che mi ferma che mi conosce di persona mi dice ma proprio cari ma tu sei proprio così sei proprio vero quindi questa per me è una grandissima soddisfazione ovviamente oggi quando mi scrivete che avete bisogno di consigli volete trasferirmi roba del genere io trasmigro questo in business in lavoro cioè tu vuoi sapere quello che io so attribuiamo un prezzo a questo e me lo dai se non hai bisogno di questo e non vuoi pagarlo continua a vedere i miei video volevo specificare questa cosa io non ho fatto questo cioè il video per ottenere quest'altro io l'ho fatto perché era giusto visto che avevo iniziato a raccontare la mia nuova vita di farti vedere un po tutto io mi sono proprio messo a nudo su questo canale ti sto raccontando proprio tanto di me e è tutto qua quindi io vi ringrazio perché non l'ho fatto mosso dai soldi e proprio per questo motivo sto diventando visto mi state vedendo veramente tanti perché forse lo avete capito quindi se se è così ed è giusto così che continui così l'unica cosa che quando mi chiedete uno specifico è ovviamente che è lavoro quindi se volete che rimango il vostro max consiglio consigliere del quartiere guardate i video se mi chiedete invece una consulenza va pagata e una cosa la voglio dire perché mi riempie di orgoglio perché me lo dite voi quando mi incontrate me lo dite voi quando volete pagarmi un caffè me lo dite voi la differenza tra me e gli altri che fanno la stessa cosa si vede e si percepisce io lo faccio perché mi piace perché amo questa nazione perché so troppo bene in questa nazione e voi lo percepite gli altri lo fanno inseguendo i soldi non tutti e quelli che mi hanno fermato mi hanno detto questa cosa ma anche perché io comunque i soldi li faccio da un'altra parte con il mio lavoro non sfruttando queste immagini quindi grazie grazie di cuore ripeto perché quando faccio le live con voi è troppo bello qualcuno di voi lo percepisce che mi emoziono perché comunque tutta una nuova esperienza per me è tutto nuovo da quando avevo 500 follower adesso che ne ho quasi centomila non è cambiato nulla io sono sempre massimiliano e lo sarò sempre uguale perché mi ricordo perfettamente da dove sono arrivato grazie ragazzi grazie fratelli ci vediamo ai prossimi video e saranno anche a milano è quindi vi aspetto anche il domenica 12 febbraio per una live venite a incontrarmi ciao a tutti